Ben trovati dopo Ferragosto dal Corriere di Sciacca. Oggi è giovedì 16 agosto. Non ce l'ha fatta il piccolo di 6 anni di Menfi coinvolto ieri in un incidente stradale incontrata a Terranova nella località balneare Lidofiori. Nell'incidente avvenuto al bivio tra la strada provinciale SP50 a Lidofiori, il piccolo era a bordo di una delle due auto coinvolte, una Nissan Qashqai, terminata contro le barriere in ferro ai bordi della strada. Sembrava un impatto innocuo ma uno dei ferri ha bucato la lamiera ed è entrato nell'abitagolo, ferendo gravemente il bambino che era in compagnia dei genitori originari di Partanna in vacanza in Sicilia. Seduto nel sedile posteriore ha riportato ferite gravissime che hanno richiesto il trasferimento con l'ele soccorso all'ospedale civico di Palermo dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. In nottata però il suo cuoricino ha cessato di battere. Come già avvenuto gli anni scorsi, lo scorso 10 agosto, nonostante l'ordinanza emessa dalle autorità con cui si vietano tende e falò in spiaggia, la tradizione di Ferragosto è stata rispettata anche quest'anno nel litorale di Sciacca. In particolare nella località balneare tra Foggia e Lido, meta preferita da tantissimi teenagers. C'erano falò anche in altri punti del litorale ma solo fuochi sporadici. Gli accampamenti di tende nella località Foggia sono stati però in numero inferiore rispetto al passato. Secondo quanto riferiscono i residenti, la situazione quest'anno è migliorata. Meno musica assordante e situazione più tranquilla sul piano della sicurezza. Raffica di multe nel giorno della processione di Maria Santissima del Soccorso a Sciacca, le restrizioni imposte dalle autorità e dalle forze dell'ordine previste nel piano di sicurezza che come note è obbligatorio in caso di eventi che richiamano migliaia di persone hanno colto in fallo centinaia di automobilisti incuranti dei divieti di sosta previsti nelle apposite ordinanze alle prese con la cronica difficoltà di parcheggi nel centro storico, in tanti hanno fermato le proprie auto nelle aree vietate, in particolare in via Leonora d'Aragona. Ripercussioni negative della mancanza di un servizio navetta nel giorno di Ferragosto a Sciacca. Molte persone ieri sera si sono lamentate per il disservizio nel giorno in cui sarebbe stato più utile quello di maggior afflusso in centro storico per la processione. La rabbia degli automobilisti che sono stati sanzionati per il divieto di sosta in diverse zone del centro storico è determinata anche da questo fatto. La presenza del bus navetta avrebbe agevolato la sosta in aree lontane dal centro storico. Da sempre la cooperativa di trasporto urbano non svolge servizio il giorno del 15 agosto. Il bus navetta non era previsto nemmeno per il 19, giorno in cui ci sarà il concerto di Gianna Nannini, ma oggi il vice sindaco Filippo Bellanca chiarisce al nostro giornale che per il 19 è stato deciso di ripristinare il bus navetta e di raddoppiarlo anzi con un altro mezzo. La Guardia di Finanza di Castelvetrano ha messo a segno un importante servizio volto al contrasto delle frodi nel settore dei carburanti. Le fiamme gialle, dopo aver esaminato i fascicoli aziendali delle imprese agricole e le relative posizioni alla Camera di Commercio, hanno svelato un collaudato sistema di frode perpetrato da oltre 50 imprese, le quali, attraverso numeri di registrazioni inesistenti o riconducibili a soggetti cessati, hanno falsamente attestato alla regione siciliana di essere pienamente operative e regolarmente iscritte al registro delle imprese agricole. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi. Corriere di Ciacca.it online 24 ore su 24 per ulteriori notizie e altri aggiornamenti.